Sono 650 i profughi provenienti dall'Ucraina ospitati nella provincia di Peso Urbino. La Questura lancia l'appello, entro 48 ore dall'ingresso in Italia va fatto un tampone cui dovranno seguire 5 giorni di sorveglianza. I moduli da compilare sono scaricabili sul sito della Questura. Il caro bolletto e l'impennata dei costi e delle materie prime stanno mettendo in ginocchio molte imprese della provincia di Peso Urbino. Confcommercio Marche Nord chiede un taglio delle accise. A Sassonia di Fano l'erosione del mare e la mancanza delle scogliere sta mettendo in difficoltà l'ultima parte di spiaggia che è ormai quasi scomparsa. Giardini Leopardi e Corte Malatestiana di Fano si rifanno il look. Costo complessivo dell'intervento vicino al 1.800.000 euro. Occhio alla notizia in studio Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio alla Notizia. Come avete sentito sono 650 i profughi provenienti dall'Ucraina che hanno raggiunto la provincia di Pesaro e Urbino. Questa mattina in Questura il Questore Michele Todisco e il Commissario De Falco hanno spiegato nel dettaglio tutte le procedure da seguire da parte di chi ospita i rifugiati. Gli eventi bellici in corso in Ucraina hanno indotto molti cittadini, principalmente nuclei familiari monoparentali con minori anche in tenera età, a fuggire dalla guerra per raggiungere il territorio della provincia di Pesaro e Urbino. In totale sono 654 i rifugiati, di cui 420 nelle città di Fano e Pesaro, ma si prevedono ulteriori e consistenti arrivi. Al momento si tratta di donne, anziani e minori accolti per lo più da famiglie del posto. I numeri stanno aumentando giorno per giorno e devo dire che c'è la grande disponibilità della popolazione ad accogliere questa povera gente, povera gente che scappa dalla propria terra appunto per raggiungere un po' per la sicurezza e per la propria serenità familiare. Per i cittadini ucraini, così come per le persone intenzionate ad ospitarli, ci sono delle procedure da seguire, come ricordato ieri sera dall'assessore regionale Stefano Guzzi, ospite nel telegiornale Occhio alla Notizia. Questa mattina invece il questore Michele Todisco e il dirigente dell'ufficio immigrazione Antonio De Falco hanno illustrato nei dettagli l'organizzazione messa in campo dalla Polizia di Stato per la gestione delle pratiche. I cittadini ucraini godono dell'esenzione del visto per turismo, quindi tutti coloro che sono in possesso di un passaporto biometrico e hanno il timbro di ingresso nell'area Schengen possono permanere liberamente tutta l'area per 90 giorni ogni 180 giorni. Quindi sostanzialmente sono regolari sul territorio nazionale indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno. Tuttavia la Comunità Europea ha previsto per loro, nel caso in cui vogliono permanere più di 90 giorni e il conflitto non vada verso una risoluzione, la possibilità di un rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. Per far fronte all'emergenza l'ufficio immigrazione ha predisposto delle aperture straordinarie dedicate esclusivamente ai cittadini ucraini. Sia per lo sportello di Pesaro che aprirà eccezionalmente il martedì e il giovedì pomeriggio e il sabato mattina solo per gli ucraini. Lo sportello di Fano presso il commissariato di Fano che farà un'apertura straordinaria di lunedì e aumenterà gli appuntamenti negli altri giorni dedicati martedì, mercoledì e venerdì. E il commissariato di Urbino che aumenterà gli appuntamenti quotidiani aggiungendo alcuni appuntamenti giornalieri per far fronte all'emergenza ucraina. Il commissario De Falco ha poi ricordato che gli ucraini che entrano in Italia devono eseguire un tampone anti-covid entro 48 ore e 5 giorni di autosorveglianza. L'unico obbligo che ha un cittadino che accoglie un extracomunitario in genere e quindi anche un cittadino ucraino è quello di presentare la comunicazione di ospitalità. Comunicazione di ospitalità che va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza e quindi a Pesaro è il questore, alla questura di Pesaro da noi all'ufficio immigrazione, a Fano è il dirigente del commissariato di Fano e quindi va presentata al commissariato di Fano, per Urbino è il dirigente del commissariato di Urbino e quindi al commissariato di Urbino, per tutti gli altri comuni della provincia è il sindaco del rispettivo comune e quindi va presentata al comune e in genere sono le polizie locali che si interessano di questa ricezione. Il modulo può essere scaricato anche dal sito della questura dove è stata predisposta una guida ad hoc, deve essere compilato dalla persona che ospita e corredato dal documento di riconoscimento suo e degli ucraini accolti. La questura ha fornito anche questo QR code che consente con l'utilizzo di uno smartphone di accedere direttamente alla pagina web dedicata. Il coordinamento di Ocesano di Fano per l'emergenza in Ucraina ha organizzato un percorso formativo online sulla piattaforma Zoom sul tema dell'accoglienza. Il programma prevede sette incontri fino a venerdì 8 aprile, rivolti a chi ha un interesse ad accogliere, aiutare e accompagnare i rifugiati ucraini nel territorio della diocese di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Sarà Diana, la bambina ucraina di 9 anni, scappata con la mamma e la sorella dai bombardamenti di Kharkiv ad aprire la festa per Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Domani, a partire dalle ore 18 all'ex pescheria, verranno rivissuti i momenti più belli che hanno portato Pesaro alla vittoria. Durante l'evento, che Fano TV trasmetterà in diretta, è prevista anche l'esibizione di cantanti e band pesaresi oltre a quella di Diana, che come annunciato dal sindaco Matteo Ricci potrà continuare a coltivare il suo grande talento al Conservatorio Rossini. Ed è in atto sicuramente un altro tipo di emergenza, oltre a quella della guerra, l'emergenza economica. Il caro bollette e l'impennata dei costi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio molte imprese della provincia pesarese. Confcommercio Marche Nord chiede a gran voce un taglio delle accise. Alle difficoltà del commercio, del turismo e della ristorazione, oggi si sommano quelle causate dall'aumento del costo dei carburanti, che sta mettendo in crisi anche i comparti del trasporto e della logistica. È forte il grido di allarme di Confcommercio Marche Nord, che ormai da un mese è in prima linea per richiedere interventi urgenti a sostegno delle imprese, che stanno subendo gravi conseguenze per il caro energia. Le imprese di tutti i settori, ha spiegato il direttore Amerigo Varotti, hanno subito un salasso economico pesantissimo, aumenti che in molti casi superano il 300%. Sono aumenti ingiustificati, che non hanno alcuna spiegazione e io credo anche nessuna correlazione con l'attuale situazione bellica in Russia, tra Russia e Ucraina. Condividiamo il pensiero del ministro della transizione ecologica, che ha parlato di truffa, speriamo che queste truffe vengano scoperte. Ciò che è chiaro è che le imprese e le famiglie della nostra provincia non possono sopportare oltre questo aumento indiscriminato. Al quale, ha proseguito Varotti, si è aggiunta la beffa del costo del carburante, addirittura con il prezzo del diesel, che supera quello della benzina. Uno scenario, ha commentato il direttore, che non si era mai visto prima. Sui prezzi che stanno praticando le compagnie petrolifere, io credo che una bella indagine da parte della Guardia di Finanza bisognerà pur farla. Perché i prezzi non sono, ripeto, in alcun modo giustificati. Il governo deve intervenire in maniera incisiva, una richiesta che Confcommercio ha già avanzato, anche con la consegna delle bollette di molte imprese della provincia al prefetto Tommaso Ricciardi. Come chiede anche oggi il nostro Presidente nazionale, uno scostamento del bilancio, come si dice in termini tecnici, fare altro debito, perché se non è così, e quindi se non si arriva veramente a una riduzione del costo dell'energia per le imprese, qui il Paese salta. Qui da una pandemia sanitaria passiamo ad una pandemia economica. Il primo intervento per Varotti deve essere sulla diminuzione degli oneri di sistema, tasse elevatissime, addirittura il 70% delle bollette dell'energia, tra le necessità anche un taglio delle accise per i carburanti, che ormai superano il costo della materia prima. Pensiamo ad una famiglia normale, una famiglia tipo, che si vede recapitare una bolletta di 300 euro di energia elettrica, di 200 euro di gas, che ha un aumento esorbitante del costo del trasporto, quindi del gasolio, o della benzina, o addirittura del metano, è chiaro che la famiglia rinuncia a fare degli acquisti, rinuncia ad andare al ristorante, rinuncia a fare le vacanze, e quindi tutta l'economia ovviamente ne soffrirà, nel momento in cui invece noi pensavamo e speravamo in una ripartenza dell'economia e una ripartenza del turismo. A Sassonia di Fano l'erosione del mare e la mancanza delle scogliere sta davvero mettendo in grande difficoltà l'ultima parte di spiaggia che ormai è quasi cancellata. A questo si aggiunge anche la pericolosità degli scogli che si trovano a lato della passeggiata dell'Isippo. Siamo naturalmente a Fano, vediamo. La spiaggia nord della Sassonia non passa di certo un bel momento. Le forti mareggiate dei mesi scorsi hanno riaffiorato gli scogli che delimitano la passeggiata, ormai diventati pericolosi, e alcuni addirittura instabili. E come potete vedere in alcuni punti ci sono delle vere e proprie buche pericolose sia per i bambini ma anche per chi passeggia. A segnalare il disagio sono gli stessi cittadini che interpellano il comune a delimitare l'area ed intervenire al più presto. Inoltre a fare i conti con questa situazione è lo stabilimento balneare dei Bagni Carlo che sta vedendo sempre più mangiarsi la spiaggia ogni anno dall'erosione del mare. La causa? Le due scogliere presenti non concluse e la mancanza della realizzazione dell'ultima a lato della passeggiata. Una situazione che non passa inosservata neanche ai fanesi. Non è una cosa bella da vedere, non so se va trattata così una spiaggia. La spiaggia è rovinata, Carlo è anche un amico mio, poverete, è anche dispiaciuto per quello che sta avvenendo. Promesse non mantenute, di scogliere ci dovevano essere, non ci sono mai state, è certo è un danno, un danno grosso. C'erano circa 100 metri di spiaggia e non c'è più niente. Ovviamente noi siamo alle porte della stagione e per cui siamo preoccupati perché avendo comunque come tutte le concessioni balneari affano un diciamo turismo prettamente locale, abbiamo anche delle promesse da mantenere i nostri clienti e in questo momento stiamo prendendo protazioni, cerchiamo comunque di essere positivi ma sempre con un po' di paura per non poter mantenere le promesse. Forte è il messaggio che l'operatore vuole inviare agli organi competenti. Bisogna dar atto che un grande merto va dato alla regione, quello che va detto va detto e soprattutto nella figura di Stefano Guzzi che è stato proprio diciamo ha cavalcato il nostro problema e ci ha consegnato in tempi record, ha fatto in modo di consegnarci in tempo record dalla regione via e permessi e comunque abbiamo la promessa anche da regione anche questa volta che aiuteranno comunque anche il comune per la questione scogliere. Detto questo, Christian Fanesi che ha detto a questa problematica, anche lui ha lavorato, malgrado ci siano stati anche degli errori, ha lavorato e siamo arrivati al punto di avere in questo momento in atto una gara per cui sono dieci giorni che è nata una gara per un'azienda che verrà a fare il lavoro sia di ripristino delle due scogliere perché devono essere finite sia dell'effettuazione della nuova scogliera e con la promessa che loro dicono fino aprile, io dico fine maggio ma magari fosse anche i primi di giugno, anche l'ultima scogliera verrà finita anche perché altrimenti qui Bagni Carlo, un pezzo di Bagni Gabriele, l'Isippo, scogliera che riguarda l'Isippo e anche lo stabulario perché qua quando sono le mareggiate è un gran casino e ci saranno dei guai. Hanno percorso i primi chilometri su strada i quattro veicoli a trazione elettrica che vanno a rinnovare il parco mezzi del comune di Cartoceto, un investimento realizzato anche grazie al contributo della regione di oltre 94 mila euro. Due mezzi sono stati destinati al servizio di manutenzione del territorio mentre gli altri due agli agenti di polizia locale. Inoltre, come annunciato dal sindaco Enrico Rossi, a breve verranno installate le colonnine dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici nel piazzale Nenni e in viale della stazione dietro il bocciodromo comunale individuabili anche con una applicazione. Torniamo a Fano, i giardini Leopardi e la corte malatestiana si rifaranno il look, il costo complessivo di questo intervento si avvicina intorno al milione 800 mila euro. Nuova vita ai giardini Leopardi e una nuova veste per la corte malatestiana è stata presentata questa mattina in comune a Fano la riqualificazione che vedrà un ammodernamento della zona dei giardini con nuove sedute, un nuovo manto erboso, alberature e un'illuminazione scenica mentre all'interno della corte un grande prato erboso inclinato per dare la possibilità di organizzare eventi o di usufruire dello stesso luogo poco frequentato. Un progetto innovativo e ambizioso ideato dallo studio Panni di Fano insieme agli ingegneri Laura Mazzei e Alessandro Busca di Bologna. Si è pensato di ispirarsi alla poesia dell'infinito di Leopardi e quindi doteremo queste sedute di un sistema di riduzione attivo del rumore Active Noise Control che è un sistema che è usato negli elicotteri per permettere di poter dialogare il piloti senza avere rumore praticamente ci si siede e il rumore dello spazio intorno rimane ovattato. Elemento scenico sarà la nuova fontana che vedrà la collocazione del puteale ovvero il pozzo oggi presente al centro dei giardini sopra un basamento contornato d'acqua con effetti di luce da qui la realizzazione di un camminamento che collegherà Via Nolfi alla corte fino alla piazza. Per ipotizzare un uso, eventuali spettacoli, dell'attività in qualche modo soft non certamente quelle degli spettacoli della corte malatestiana con le gradinate alti 5 metri insomma abbiamo dotato praticamente due prati erbosi quindi ripristinando in qualche modo il concetto del giardino all'italiana dando una leggera inclinata ma ipotizzandoli come una specie di tappeto erboso che si sovrappone alla struttura esistente in modo da ridurne l'impatto con il manufatto storico proprio perché questi due prati galleggerebbero sopra la struttura esistente. All'interno della corte poi verrà realizzata una zona che sarà dedicata al box informazioni e ai servizi igienici anche alcuni reperti storici esterni vedranno una nuova luce con nuovi collocamenti e una maggiore visibilità. Questo bando al PNRR a cui accediamo è un bando che ci finanzierà fino a 2 milioni di euro fino ad un minimo di 200 mila euro. Noi andiamo con il massimo della capacità quindi ci candidiamo con un progetto di 1 milione e 8 una delle caratteristiche di questo bando vuole proprio anche il miglioramento delle barriere, l'abbattimento delle barriere architettoniche tanto che verranno previsti sia nella parte dei giardini lopardi che all'interno della corte. Ecco, ora incrociamo le dita e speriamo meglio. Cerchiamo di cogliere questa occasione ovviamente sta in una progettualità che vuole valorizzare il nostro centro storico e soprattutto vuole riportare all'attenzione renderlo visibile e condiviso ovviamente si unisce ad altre qualificazioni di piazze della nostra città già programmata e quindi, come mi piace dire, è una città che diventa sempre più bella e sono convinto che al termine di questo percorso sarà una delle città protagoniste del nostro territorio regionale. E anche Fano celebra la giornata mondiale della poesia al Museo del Palazzo Malatestiano domenica si svolgerà un laboratorio per bambini dal titolo Ritratti in Rima. Per il mese di marzo il Museo del Palazzo Malatestiano organizza due iniziative rivolte alle famiglie e agli educatori. La prima iniziativa si terrà domenica 20 marzo alle ore 16.30 presso appunto il Museo del Palazzo Malatestiano ed è rivolta alle famiglie con bambini da 6 a 10 anni. Si tratta di un'iniziativa per celebrare la giornata mondiale della poesia e consiste in un laboratorio per bambini che verranno coinvolti in un percorso all'interno delle sale del museo in cui verranno presentate delle letture animate e alla fine del percorso verrà realizzata anche un'opera, un ritratto. Un altro appuntamento importante ci sarà giovedì 31 marzo, sempre alle 16.30 e sempre al museo ed è rivolto questa volta a tutti coloro che hanno a che fare con la fascia di bambini da 0 a 3 anni. Si tratta infatti di un incontro formativo per genitori, educatori e operatori museali per favorire sempre di più la partecipazione al museo di questa fascia di età che è quella diciamo un pochino più difficile da portare al museo perché si tratta appunto di piccolissimi. Ricordiamo che gli incontri sono gratuiti Il primo, quello rivolto alle famiglie, è gratuito per i bambini mentre l'accompagnatore e l'adulto paga il biglietto intero mentre il secondo appuntamento è totalmente gratuito. Per informazioni occorre rivolgersi alla biglietteria del museo quindi allo 0721-887-845 oppure inviare un e-mail a museocivico-chiocciolacomune.fano.pu.t Oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid per l'occasione l'area vasta numero 1 ha esposto le bandiere a mezzaste e ha chiesto a tutti i dipendenti di osservare un minuto di silenzio. Le aziende sanitarie, ha detto il direttore Romeo Magnoni sono state sempre in prima linea nella lotta all'epidemia e molte delle vittime sono medici ed infermieri che con professionalità e dedizione sono stati al fianco dei pazienti affetti da coronavirus. Adesso andiamo a Marotta Marotta che omaggia Ivan Graziani con un'opera sul lungomare a 25 anni dalla scomparsa del cantautore che amava fermarsi a Marotta nelle serate estive domenica mattina alle ore 11 verrà inaugurata un'opera artistica in sua memoria realizzata dall'associazione Chiaroscuro l'iniziativa è organizzata dall'associazione micologica e dal circolo sociale El Croc saranno presenti anche le autorità locali e la famiglia di Ivan Graziani Fano TV in alta definizione ora sul canale 19 prosegue la transizione alla nuova tecnologia in tutte le marche che nei prossimi giorni interesserà anche le altre province della regione oggi è iniziata in quelle di Ancona e di Macerata vi ricordo che il sindaco di Fano Massimo Serri sarà ospite del nostro programma primo cittadino in onda lunedì sera in diretta subito dopo il telegiornale Fano TV è sostenuta da coloro che amano un'informazione libera e indipendente per questo ringraziamo questa sera i nostri sostenitori Gabriella, Enzo, Anna e Paolo Seguerò le previsioni del tempo e poi la programmazione di Fano TV l'informazione torna in diretta domani mattina alle 7 grazie per essere stati con noi arrivederci Sostiene l'informazione libera e indipendente Sostieni Fano TV Sostiene Fano TV